Con cuore adolorato, ho seguito le triste notizie degli attentati terroristici avvenuti ieri a Bruxelles, che hanno causato numerose vittime e feriti. Assicuro la mia preghiera e la mia vicinanza alla cara popolazione belga, a tutti i familiari delle vittime e a tutti i feriti. E rivolgo nuovamente un appello a tutte le persone di buona volontà per unirsi nell'unanime condanna di questi crudeli abomini che stanno causando solo morte, terrore e orrore. A tutti chiedo di perseverare nella preghiera e nel chiedere al Signore in questa settimana santa di confortare i cuori afflitti e di convertire i cuori di queste persone acceccate dal fondamentalismo crudele per l'intercessione della Vergine Maria facciamo la preghiera. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo senno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, cattori, adesso e ora della nostra morte. Amen. Adesso in silenzio preghiamo per i morti, per i feriti, per i familiari e per tutto il popolo belga. Grazie a tutti.